Vediamo ora la lezione sulla potenza e poi la potenza obbedienziale, a pagina 102. La potenza dice passività, capacità di ricevere un atto o forma o determinazione. Bisogna anche dire che c'è la potenza passiva, la vera e propria potenza, e la potenza attiva, la capacità di dare, per esempio, il cameriere ha la capacità di dare, di versare, il latte, il caffè, il cioccolato, il whisky, nel bicchiere del cliente. Noi quando parliamo di potenza, parliamo di potenza passiva. Se vogliamo parlare di potenza attiva, dobbiamo specificare potenza attiva, capacità di dare, altrimenti potenza di per sé significa capacità di ricevere. L'atto determina la potenza, la attua, la riempie, ed ha una priorità ontologica, non cronologica. L'atto vale più della potenza, perché la potenza è capacità di, l'atto invece è determinante, è ciò che attua, come la forma sulla materia, l'anima sul corpo, l'essere sull'essenza, anche se cronologicamente la potenza può precedere l'atto. Per esempio, il legno lavorato è in potenza a diventare sedia. Allora ecco che questo legno lavorato cronologicamente precede la sedia ultimata. La sedia ultimata è l'atto e la sedia in potenza, o il legno che sta per essere lavorato, è la potenza. Però ciò che bisogna sapere è questo. Non la potenza non passa all'atto se non c'è un agente già in atto. Gli scolastici dicono ens in potenzia, non reducitur ad attum, nisi per ens actu. Un ente in potenza non passa all'atto se non per un ente che è già in atto. Per esempio, il legno non diventa statua o sedia o tavolo se non c'è un artista, un falegname, che lavora il legno e dà a questa materia l'atto o la forma di sedia o di statua. Atto e potenza, pur esistendo nello stesso soggetto, nello stesso blocco di marmo o di legno, c'è la potenza, la capacità di ricevere la forma di statua. Sono realmente distinti tra di loro, come la materia e la forma, l'essenza e l'essere. Vedete, questo è il cuore della metafisica atomistica. Questa distinzione tra atto e potenza esiste in tutti gli enti creati, anche nell'angelo, che è composto di essenze e di essere, anche se non ha un corpo. L'uomo, invece, oltre a aver la composizione di essenze e di essere, ha anche la composizione di materia e di forma. Invece in Dio non c'è questa composizione, perché Dio è atto puro da ogni potenza o potenzialità. Non c'è in lui composizione di essenze e di essere, lui è l'essere per sua stessa essenza. Forma semplicissima, senza materia e senza composizione di potenze e di atto e di essere e di essenza. Adesso entriamo a vedere che cos'è la potenza obbedienziale. Questo è un concetto filosofico e teologico molto importante e molto attuale, perché su di esso il modernismo ha fondato la teoria della necessità della grazia per la natura umana. L'uomo, per il fatto che esiste, ha diritto alla grazia santificante. La grazia per cui non è un dono gratuito di Dio, fatto all'uomo, ma è qualcosa che è dovuta all'uomo. Il che già fu condannato da Pio X nella Paschendi nel 1907 e poi è stato ricondannato da Pio XII nell'enciclica Humani Generis del 1950, 12 agosto. Allora, la potenza obbedienziale. Bisogna innanzitutto distinguere potenza naturale, capacità passiva delle creature di ricevere l'atto naturale. Abbiamo visto, il legno ha una capacità passiva di ricevere la forma di tavolo, di sedia, di statua. La potenza obbedienziale è una capacità puramente passiva, questo è molto importante, non è attiva e passiva, quindi capacità di ricevere, e non lo posso ricevere da me stesso, ma lo debbo ricevere, enz in potenzia, non riducidor ad attum, nisi per enz attu. Un ente in potenza non passa all'atto se non grazie a un ente che è già in atto. Il legno non può diventare statua se non c'è un artista che lavori il legno e lo faccia diventare statua. Allora, ecco che questa potenza obbedienziale è puramente passiva. Ha la necessità che una causa efficiente la faccia passare dalla potenza all'atto, le dia la forma, le dia l'essere. Non ce l'ha di per sé. Quindi, capacità passiva della natura di ricevere da Dio tutto ciò che Lui vuole darle e, nel caso nostro, questo qui si entra nel campo teologico, qualche cosa che sorpassi la natura, l'ordine soprannaturale. Quindi, dal concetto di potenza squisitamente filosofico, non si può non passare al concetto di potenza obbedienziale che è stato riesumato nel 1946 da Henri de Ruebac con il suo libro Il soprannaturale che venne condannato da Pio XII con l'enciclica Humani Generis. Il libro fu ritirato e de Ruebac fu sospesso dall'insegnamento. Poi, purtroppo, fu chiamato al concilio Vaticano II come perito dieci anni dopo la condanna da Giovanni XXIII e lui non ha mai ritrattato l'errore, non si è pentito, non si è corretto e poi addirittura Giovanni Paolo II lo ha fatto cardinale. Quindi, non c'è nessuna ermeneutica della continuità tra concilio e pre-concilio ma c'è una rottura laddove questi autori furono condannati nel 1950 sono stati poi chiamati come periti al concilio Vaticano II e sono stati poi esaltati alla porpora cardinalizia nel post-concilio. Allora, ecco che potenza obbedienziale è capacità passiva della natura per esempio della mia anima di ricevere da Dio ciò che Lui vuole darmi se vuole darmelo se vuole darmi la grazia non è tenuto, non è obbligato è sua libera volontà gratuita del tutto gratuita Dio vuole darmi la grazia e mi dà quindi qualche cosa che sorpassa la natura creata non solo la natura umana ma anche quella angelica la grazia è qualche cosa che non appartiene di per sé né all'uomo né all'angelo l'uomo e l'angelo la debbono meritare l'angelo dovette meritarla quando Dio disse agli angeli che per entrare nel regno dei cieli avrebbero dovuto riconoscere la loro dipendenza da Dio il fatto che loro fossero creature lui il creatore allora la maggior parte degli angeli lo accettò e furono gli angeli buoni mentre un quarto di angeli si rivoltò capitanati da Lucifero che gridò non serviam e furono precipitati nell'inferno che fu creato in quel preciso istante questa elevazione allo stato soprannaturale è totalmente gratuita non è dovuta alla natura umana non è necessario che Dio realizzi questa capacità noi ce l'abbiamo ma come il legno ha la capacità di diventare sedia o tavola il fatto che abbia questa capacità non significa che debba essere necessariamente realizzata può esserlo se il falegname ha voglia di fare una sedia o se l'artista ha voglia di scolpire una statua o un crocifisso l'ordine sovranaturale la grazia che cos'è? è una partecipazione abbiamo visto che cos'è il concetto di partecipazione partem capere c'è il partecipante e il partecipato il partecipato è Dio è la causa il partecipante è l'effetto io uomo partecipo ricevo da Dio l'essere Dio è la causa io sono l'effetto quindi c'è una partecipazione alla vita intima di Dio di Dio in quanto Dio subrazione dei Taitis che oltrepassa ogni capacità della natura creata anche quella angelica neanche l'angelo può da sé arrivare all'ordine sopranaturale è qualche cosa che gli è dato da Dio che fu dato agli angeli buoni e che fu negato agli angeli malvagi ribelli e che furono precipitati nell'inferno e divennero diavoli Dio non ha creato il diavolo Dio ha creato gli angeli per il cielo poi purtroppo una piccola parte di questi angeli volle preferire la propria dignità al riconoscimento della loro dipendenza da Dio e quindi vollero andare all'inferno piuttosto che essere sottomessi a Dio ecco quindi che la potenza obbedienziale non è pura non ripugnanza abbiamo visto che è capacità passiva di ricevere la non ripugnanza che cos'è il nulla ha la possibilità o la non ripugnanza di essere oggetto di creazione da parte di Dio non ripugna non è impossibile che Dio crei dal nulla invece la potenza obbedienziale come la potenza naturale è capacità passiva reale di ricevere un atto o una perfezione il legno ha una capacità passiva reale che sta in lui nel soggetto legno di ricevere l'atto o la perfezione di statua di tavolo di sedia però questa potenza obbedienziale non è neppure un atto imperfetto o potenza attiva come vorrebbe Suárez e come poi a partire da questa falsa definizione di potenza in quanto atto imperfetto o potenza attiva il divenire di una potenza che comincia a essere lavorata nel legno che comincia a essere lavorato da un falegname e il falegname ne sta facendo un tavolo no la potenza passiva capacità puramente passiva non è atto imperfetto non è potenza attiva capacità di dare non è qualche cosa che di per sé sta arrivando all'atto perfetto non è la natura che ha diritto alla grazia questo errore della natura che ha diritto alla grazia della potenza obbedienziale come capacità di attiva di arrivare all'ordine sopranaturale non capacità passiva di riceverlo da Dio il modernista dice no è una capacità attiva come io apro gli occhi ho la capacità attiva di vedere invece la capacità passiva io posso ricevere in un bicchiere luischi se vado al bar e lo chiedo al cameriere questo errore teologico si rifà a una definizione filosofica data da Suarez Suarez quando parla di potenza passiva per Sant'Omaso potenza passiva è capacità di ricevere non ha nulla di attivo in sé la materia prima è la capacità di ricevere qualsiasi forma invece per Suarez la potenza passiva ha in sé un certo atto imperfetto non è ancora l'atto perfetto ma di per sé tende a questa perfezione dell'atto e quindi se io per me tendo alla perfezione dell'atto e della grazia la grazia è dovuta alla mia natura e io posso con le mie forze arrivare all'ordine soprannaturale questa conclusione non la trasse Suarez sono stati modernisti ma da questa falsa definizione di potenza passiva data da Suarez i modernisti hanno tratto questa conclusione erronea che è un'eresia che porta al falso concetto della grazia che è dovuta alla natura e che non è un dono gratuito di Dio per Sant'Omaso il divenire è il passaggio dalla potenza passiva all'atto perfetto grazie l'azione di un agente nato allora ho del marmo e allora ecco che il marmo è potenza passiva a diventare il Mosè di Michelangelo ma questa potenza passiva del marmo arriva all'atto perfetto del Mosè che noi vediamo nella chiesa che sta a Roma dove ci sono anche le reliquie dei santi maccabèi e dei santi innocenti San Pietro in vincoli ebbene questa potenza passiva del marmo di Carrara a diventare il Mosè di Michelangelo ha bisogno di Michelangelo se io vado a scolpire il marmo di Carrara faccio uno sgorbio se lo scolpisce Michelangelo fa un capolavoro il Mosè però il marmo ha sempre bisogno di un agente che può essere anche un asino come me che scolpisca il marmo perché diventi qualcosa di diverso da un blocco di marmo allora ecco che l'ente in potenza passa all'atto grazie a un ente che è già in atto allora per Suarez la potenza è un atto non ancora ultimato però di suo di per sé tende alla perfezione da questa definizione filosoficamente erronea di materia prima di atto di materia di potenza passiva i modernisti e soprattutto deliubac ne hanno tratto un grave errore teologico parvus error in principio fitemagnus in termino ecco l'importanza della filosofia per arrivare a una sana filosofia e teologia scusate devo avere una sana filosofia è per quello che San Pio X volle le 24 tesi del tomismo per far capire a tutti quale fosse il tomismo vero originario perché deliubac diceva no il vero tomismo è quello che ci ha insegnato Suarez non è quello insegnato dalla seconda scolastica specialmente domenicana e quindi padre Mattiusi che era un gesuita invece fece questo elenco di 24 proposizioni o tesi in cui è contenuta tutta la filosofia tomistica e quindi c'è la distinzione tra potenza atto essenza essere materia forma e c'è il concetto di potenza passiva come capacità di ricevere l'atto da un ente che è già in atto non di passare da se stesso all'atto perfetto come voleva Suarez ora vedete come da un parvus errori in principio fette magnus errori in termino piccolo errore nel principio diventa grande alla fine e come è necessario studiare filosofia per avere una buona teologia per capire e confutare gli errori teologici molti non hanno avuto poi la capacità di confutare gli errori del modernismo del Vaticano II perché è mancata loro l'autorità il Papa che prima insegnava il vero e il falso e siccome lo dice il Papa seguiamo quello che dice il Papa Giovanni XXIII parecchi vescovi che all'inizio erano buoni cambiarono orientamento i vescovi invece che avevano una base filosofica buona capivano la gravità degli errori che venivano introdotti in questi decreti conciliari da questi falsi teologi neomodernisti come Derrywbach von Balthasar Ratzinger fu proprio per impedire questi errori iniziali in filosofia che la Santa Sede volle dare a professori e studenti un sunto essenziale della metafisica atomistica che si trova nelle 24 tesi San Pio X aveva imposto come testo scolastico la Somma Teologica nel 1914 quindi bisogna studiare nei seminari nell'Università la Somma Teologica di San Tommaso però volle precisare che i professori di seminario o di Università Pontifice non dovevano trasmettere agli alunni le loro teorie personali la loro interpretazione personale di San Tommaso ma l'essenza del tomismo originario e quelle tesi che la Chiesa ha sempre ritenuto come sicure Papasarto volle quindi indicare i principi basilari della vera filosofia atomista onde evitare ogni ambiguità perché il modernismo grazie a Suarez dicendo di fondarsi su San Tommaso invece no si fondava su Suarez che male interpretava San Tommaso ha introdotto pian piano l'errore queste 24 tesi furono stilate da padre Mattiusi e da Monsignor Giuseppe Biagioli che insegnava al seminario di Fiesole padre Mattiusi insegnava alla Gregoriana di Roma e nel 1914 furono approvate dalla Santa Sede poi morto San Pio X Benedetto XV le propose come norme direttive sicure Tuttavia il Papa non volle dare a queste tesi un valore dogmatico avevano un valore di alta importanza disciplinare erano norme sicure direttive ma non c'era il dovere di abbracciarle con assenso interiore era la dotina preferita dalla Chiesa e quindi il suarezismo era tollerato si tollerava che si insegnasse Suarez per non creare dissensi forti nella Chiesa perché purtroppo la compagnia di Gesù tranne qualche rara eccezione era legata alla filosofia e alla teologia di Suarez allora ecco che ritornando alla potenza obbedienziale la sana e retta filosofia insegna che l'uomo dopo aver provato con certezza l'esistenza di Dio io dimostro che se c'è un effetto c'è una causa e se c'è un effetto universale permanente come il mondo deve esserci una causa permanente e universale che io chiamo Dio ora ho provato l'esistenza di Dio a partire dalla contingenza delle creature però una volta che io so che Dio esiste ho il desiderio naturale di conoscere questo Dio qual è la faccia di Dio qual è l'essenza di Dio però questo desiderio che sta in me è inefficace vuol dire io non ho la capacità di arrivare a vedere l'essenza di Dio quindi noi abbiamo bisogno dell'aiuto soprannaturale divino quindi abbiamo la potenza passiva di arrivarvi ma questa potenza passiva per arrivare all'atto ha bisogno di un ente in atto che mi faccia passare dalla potenza all'atto e questo ente in atto è Dio con la sua grazia quindi questo desiderio non solo è inefficace da parte mia ma è condizionale a condizione che Dio lo voglia Dio non è obbligato a volerlo è anche gratuito Dio non è obbligato e Dio può darmelo non darmelo e se me lo darmelo da gratuitamente quindi io ci potrò arrivare solo a condizione che Dio lo voglia gratuitamente senza esservi obbligato e da parte mia non c'è nessuna efficacia di arrivarvi invece per De Luebac e i neomodernisti questo desiderio di vedere l'essenza di Dio deve essere non può essere appagato da Dio l'uomo ha la capacità attiva non passiva anche se non perfetta quindi l'uomo ha la capacità che non è totalmente ultimata ma di arrivarvi con le sue forze e qui Suarez è ripreso dai neomodernisti con la sua nozione di atto imperfetto l'atto imperfetto è la capacità che ogni potenza ha di arrivare all'atto perfetto anche se in sé non è ancora atto perfetto si vede ancora una volta come errori filosofici portino a conseguenze catastrofiche nel dogma così pure dalla non distinzione reale tra essenza essere alcuni autori eterodossi tirarono la conclusione del panteismo se l'essenza coincide con l'essere se Dio è l'essere e se Dio coincide con la mia essenza è l'essere di ogni essenza dell'essenza del mondo dell'essenza mia degli angeli allora ecco che io il mondo gli angeli e Dio facciamo una sola cosa questo è il panteismo che già abbiamo visto allora ecco abbiamo finito il concetto di potenza obbedienziale e la prossima volta vedremo i predicabili e poi soprattutto il concetto di premozione fisica che è un concetto molto importante sia dal punto di vista filosofico sia dal punto di vista teologico ci fermiamo qui di Grazie a tutti